buongiorno anno l'ho messo io qui a caso un po' di coni tiro no l'impianto poteva andare a villa a villa ma ormai è passato anche il fatto che la mappa è costruita con i pezzi di mappe si consiglia trasferimento nella zona sicura indicata dei vari code black ops è carina come idea dai è almeno un'idea originale vedo già uno lì a terra c'è la cassa qui vicino prima io avevo fatto una partita avevo trovato pure lì alla lega ok dove c'è gente gippa eh io lo so io sento della gente però se ci sono da me ci sono da me e se mi ritrovo qualcuno di fronte ok arrivo ho trovato un'arma con sotto sotto portarsi al sicuro merda vai bella bisogno di cura no no ho le pende grazie a questi che hanno i colpi ecco lancio di rifornimenti in arrivo li avevo lasciati tutti e due tipo hanno fatto team kill e poi dopo vado a controllare dove ero io e poi si corre in zona non ho un cazzo oh c'è il quad c'è il quad c'è il quad bravo qua c'è anche un'armatura di livello 1 eh sto arrivando alla zona si veloce 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 andiamo a prendere ho trovato l'mp40 dorato ok eh e e sta lagando discord sta lagando discord non passa nulla non passa nulla belghi attenzione previsto ulteriore collasso trasferitevi nella zona sicura che che Neh. aggiornamenti con l'asso del cerchio imminente portarsi al sicuro intenti oh merda è impossibile di recuperare la stagione lancio di rifornimenti in arrivo l'unica cosa che ti puoi aiutare è che ti puoi curare previsto ulteriore collasso raggiungere le zone sicure indicate stiamo nella merda io sono senza armature senza roba scura armine no 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 aggiornamento collasso del cerchio imminente portarsi al sicuro no 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 a tutti lancio di rifornimenti in avvicinamento previsto ulteriore collasso raggiungere le zone sicure indicate ma lo capisci che sta laggando discord e ci disconnette ah ah io non l'ho no io non laggo no a me continuava a disconnettere ti chiamavo non funzionava discord a me bello no no a me non mi dava questo problema se no non te l'avrei detto e io stavo cercando di dirtelo ogni volta mentre riusciva a parlare ma non mi ascoltava ecco perché stavi zitto eeeh lancio di rifornimenti in arrivo bella e l'ho usato? eeeh si andiamo dentro andiamo dentro si 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 non sparano a noi vero? non lo so no no li ho visti li ho visti li ho visti sono a 2.40 2.40 sto flancando previsto ulteriore collasso raggiungere le zone sicure indicate questi sono sembrano a nord est questi altri che sparano qui c'è una corazza se ti serve qui c'è una corazza se ti serve non è presa? si si dardo sensore buono ok ok mi faccio un po' il dardo sensore così guarda la lo vedi nella mappa eh aspetta perchè mi sto prendendo l'arma ma guarda un sicuro eh rilevata instabilità critica evacuare nella zona sicura si muova sto cercando di mettere un coso ok percezione percezione attivata questo quindi c'è gente fuori hai detto? si sono a nord est c'è un roccione sta scendendo si sto qui nelle case merda dietro c'è ucciso quello dietro madonna col pompo automatico c***o bazzardo qui in casa siamo solo io e te combatti per la vittoria rilevata instabilità critica evacuare nella zona sicura aspetta 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 sono io e lui e lui ha il pompo automatico siccome collasso del cerchio imminente portarsi al sicuro bella 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 wow bella 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 Grazie.